allora eccoci ho fatto partire la registrazione benvenuti a tutti a maria teresa sartori chiara bertola naturalmente e poi anche le altre persone che sono connesse analisa nicolas salvatore gandolfo stefania perna di napoli ciao poi daniela rizzi federica non so chi sia chi tu sia c'è daniela rizzi c'è daniela rizzi a dare a danni e che non sono vedo niente io ma voi vedete perché io non vedo perché adesso non vedo solo la l'immagine della della locandina allora guarda se se fai così vedi tutti no naturalmente ciao danni eccoci e allora io vi ringrazio ringrazio anzitutto chiara chiara bertola che ha organizzato questo questo bel dialogo all'interno del suo corso super intensivo che sta facendo all'accademia un'idea e ringrazio maria teresa per per la disponibilità per essere qui un po condividere il suo lavoro con tutti noi e poi voi che che siete che state intervenendo so che appunto qualcun altro arriverà piano piano lo vedremo e però se quando ho mandato questo avviso abbiamo mandato questo avviso erano tutti molto contenti e tutti molto curiosi di ascoltarti maria teresa di ascoltare questo dialogo tra voi per cui grazie e buon ascolto a tutti buona visione a tutti e ci vediamo dopo io sono qui per qualunque esigenza sì assolutamente resta la grazie vabbè tanto buongiorno ben arrivati ben collegati non so come si possa dire in queste situazioni comunque ormai sono un po abituati meri grazie che sei che è accettato di fare questo dialogo con noi e comunque io volevo semplicemente darvi due così un'introduzione non sono anche un'introduzione sono sempre molto povere molto difficile quindi secondo me il lavoro di meri saremmo noi due durante questo tempo ma insieme anche alle vostre domande che verrà fuori si manifesterà però io volevo dire che forse oggi con questa tecnologia un po difficile e con questa distanza però riusciremo a mettere insieme a presentarvi soprattutto meri il lavoro che abbiamo diciamo che ultimamente ci ha impegnato una meri in modo particolare che la mostra che abbiamo fatto alla perini stampare visto che con i ragazzi stiamo un po lavorando anche su quel programma che è conservare il futuro che cosa significa invitare gli artisti lì che significa per me essere il curatore con loro dentro quel luogo allora è bellissimo che oggi sei qui con noi e che proviamo a ripercorrere anche in fondo in quella mostra lì ci sono c'erano una serie di lavori molto importanti del tuo percorso alcuni certamente come sempre fatti quasi un po apposta per la mostra ma altri che invece segnavano dei ritmi di passaggio fondamentale nel tuo lavoro quindi quella mostra lì direi che è importante per presentare e riassumere le forniere di entrata nel tuo lavoro io vorrei solo dare due coordinate io conosco meri da tantissimi anni veramente da tantissimo anzi l'inizio della mia storia nel mondo dell'arte è iniziato un po' a braccetto con meri la prima mostra che io ho fatto nella mia carriera curatoriale l'ho fatta a curio presentando una mostra personale di maria teresa sartori quindi insomma è veramente abbiamo camminato e continuiamo a camminare insieme allora una cosa che mi viene da dire però meri veramente poi interviene in maniera ma gamba tesa e che mi sembra che allora volevo dire che meri un giorno quando quando vado moltissime volte nel suo studio mi dice ma a me interessa la realtà insomma quello che veramente bisogna mettere in prima di tutto nel suone per capire il suo lavoro e questo rapporto con la realtà cioè le interessano i meccanismi di funzionamento di certi comportamenti della realtà che siano poi tra esseri umani che siano poi nella natura e quindi fenomeni come il vento come il mare come vedremo quindi fenomeni immateriali anche e le interessa tracciare ciò che di fatto non è tracciabile quindi come mettersi l'interesse di mettersi sotto la pelle delle relazioni però per fare che cosa per tirare fuori e cercare di restituire in un qualche modo e poi capiremo in che modo un linguaggio una forma un codice e per questo è come se lei ogni volta entrasse dentro dei certe volte dei linguaggi certe volte delle linguaggi che non sembrano linguaggi ma invece lo sono e per mettere insieme queste queste relazioni io una cosa che mi ha molto stupito o comunque ogni volta ogni volta mi mi lascia perplessa o mi rende felice perché tutte le volte Mary mi fa capire come dentro la realtà del nostro sguardo dentro la nostra relazione esistenziale sia il ritmo e a condurci dentro questa questa nostra esistenza e Mary ha fatto questo lavoro incredibile del del suono del mare forse questo è il suono delle onde che forse il lavoro che più esemplifica quello che sto cercando di dire però prima vorrei fare un passo indietro dire un'altra fase che Mary mi ha detto e che mi ha di nuovo mi è molto piaciuta mi comporto come una scienziata dell'ottocento cioè questo secondo me è un'altra cosa interessante per far capire un po' l'atteggiamento che Mary ha nei confronti della verità e della scienza e della dimensione oggettiva adesso lo diciamo una volta poi lo diremo molte volte in questo nostro incontro perché è importante per lei però quest'artista ogni volta che affronta una diciamo un territorio una dimensione o un fenomeno si avvale o comunque si avvicina in una maniera da scienziata che poi lei dialoga parla si si fa consigliare da specialisti che nemmeno così che siano scienziati linguisti attori personaggi musicologi quindi insomma non è sola in questo viaggio però poi a un certo punto lei va per la sua strada cioè va per la sua strada e diventa alla ricerca di un'altra possibilità di rilevare di detectare questo dato oggettivo lei stessa diventa come una specie di strumento diciamo esperenziale e emozionale e quindi di strumento che in qualche modo raccoglie il dato del empirico deve passare attraverso la sua esperienza e quindi la sua emozione anche però nella maniera più come dire oggettiva possibile cioè in maniera nella maniera meno interpretativa possibile cioè veramente come se il flusso della realtà adesso mi sto riferendo in modo particolare al lavoro del del suono del delle onde che abbiamo esposto in querini ma però ce ne sono diversi altri lavori che potrebbero essere in qualche modo immessi o capiti dentro questa dinamica ecco mi rendo conto che il mio parlare è un po astratto perché senza chi non conosce il lavoro di media per me è molto chiaro ma adesso proveremo a specificarli in una maniera un po più precisa io non so Mary se tu senti che quello che ho detto io è a qualcosa di vero o comunque qualcosa di in cui tu ti riconosci ti riconosci bene allora se no lo puoi forse precisare inizia a precisare un po perché per me questo fatto del 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 tentativo tuo di controllare qualche cosa che non è controllabile o comunque di metterlo dentro una cosa finita no? quindi di giocare tra sempre questa dimensioni infinite o comunque non viste per cercare di metterle dentro invece qualche cosa di controllabile mi sembra un dato una soglia importante da cui partire per parlare della tua ricerca che dici? no no Chiara hai detto benissimo tutto mi riconosco completamente in quello che hai detto l'unica cosa magari così solleciterei chi ci ascolta insomma chi ha voglia di intervenire con domande in modo che sia davvero una chiacchierata cioè di non separare il momento delle domande no? no come dire no? è isolarlo in un certo momento ma invece insomma che avvenga tutto molto liberamente quindi sentitevi liberi di interrompere chiedere eccetera che insomma ci fa solo piacere ecco non so Chiara io partirei mostrando delle cose no? perché hai introdotto tutto in modo molto chiaro lineare perfettamente quindi direi che magari inizierei a condividere quindi vado con la condivisione questo è un momento andiamo andiamo allora con la condivisione nel momento terribile è arrivato allora vediamo un po' ok qua qui l'abbiamo già fatto adesso faccio share adesso vado qua vedete? riuscite a vedere? sì ah sì perfetto allora adesso comincerei con con tutti quelli che vanno Chiara che così no? partiamo da sì quello lì è il più metterei però un visualizza come così ecco che magari come lo vedete l'immagine? analisa bene bene eh sì esatto io in realtà ho un po' l'immagine sgranata probabilmente per la connessione no anche io l'immagine perché ieri Meri quando abbiamo fatto la prova io la vedo molto meglio ok no molto meglio questa allora io non la vedo per niente sgranata voi sì? eh sono problemi di connessione allora però sì sì purtroppo la vedete molto sgranata? no dai sì secondo me si può fare cioè riuscite vediamo qua riuscite a vederla magari meglio perché è ravvicinata l'immagine? non so no è sgranata ma comunque si capisce si intuisce è peccato però dobbiamo lavorare con questa perché sì purtroppo il rispetto ai Meri è più diciamo che allora diciamo questo lavoro è anche piuttosto importante la definizione del tratto no? allora adesso vi racconto due cose su come sono nati questi lavori allora come giustamente Chiara diceva io spesso mi confronto con specialisti del settore no? nei quali mi addentro in questo caso si tratta di fisici teorici che per capire il come le persone si muovono nello spazio da un punto di vista adesso sto facendo già le azioni bisognerebbe che le vaste l'audio però non lo so com'è che si può fare sì bisogna spegnere l'audio senza interferenze vai 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 Meri vai ok quindi appunto con in collaborazione con questi fisici teorici dell'università di Bologna che per studiare il movimento delle persone nello spazio da un punto di vista fisico matematico hanno fatto delle riprese dall'alto durante quattro carnevali di Venezia quindi immaginatevi dal campanile di San Marco, dalla Basilica e da altri punti da cui si potesse osservare la folla che si muove hanno fatto delle riprese per avere appunto delle immagini della realtà di come effettivamente le persone si muovono per poi ovviamente lavorare con simulazioni virtuali eccetera dunque questo materiale incredibile di una grande bellezza quindi immaginatevi delle testoline che si muovono viste dall'alto ho lavorato in questo modo e qui anche riprendiamo quello che diceva Chiara nell'introduzione ovvero ho inserito dentro il computer pezzetti di filmato molto brevi, due minuti, tre minuti e ho sopra lo schermo del computer ho appoggiato un foglio di plastica trasparente e con un pennarello ho seguito il tracciato di ogni singola persona all'interno del tempo dato quindi dovete immaginarvi appunto per esempio questo tratto qua è una persona poi sono tornata indietro ho fatto la seconda persona e poi la terza eccetera alla fine quando stacco il foglio trasparente ovviamente ne esce una rete che in qualche modo descrive ciò che è accaduto in quel lasso di tempo, in quello spazio dopodiché ho trasposto su un foglio di carta molto grande con la tecnica della quadrettatura sempre con la mia mano questo è importante il risultato allora cosa è importante per me? io so benissimo che esistono software che fanno questo in modo molto più preciso di quanto lo possa fare io con questi mezzi molto come dire meccanici e un po' rudimentali perché con un foglio di plastica la mia mano, il pennarello però ho cercato di essere fedele o meglio quanto sufficientemente fedele sufficientemente fedele tanto fedele quanto lo consentono i sensi umani per cui i miei occhi, la mia mano a me interessa essere dentro questo abbastanza essere dentro una tensione verso l'oggettività non raggiungerla tantomeno con i mezzi che uso io e quindi in qualche modo però rappresentare ciò che è stato tutto ciò poteva andare diversamente e anche questo è un punto che mi interessa molto quindi in qualche modo c'è questo il tema della casualità che mi interessa molto allora vediamo un po' se posso illustrarvi allora vediamo se riuscite a vedere vedete ci sono delle aree vuote interne e delle aree vuote esterne allora ad esempio qui ci sarebbe il campanile di San Marco qui c'è il museo archeologico qui questi buchi, queste aree vuote interne sono dei gazebi che vendevano maschere ovviamente qualsiasi umana attività poi implica cambiamenti di dinamiche direzionali quindi vedete che vicino ai gazebi di maschere un'altra cosa che è emersa da questi lavori è che di fatto la composizione sociale veneziana è piuttosto semplice ovvero ci sono i veneziani o chi vive e lavora a Venezia e i turisti allora i turisti se noi guardiamo ci sono tutta una serie di linee intrecciate curve che si attorcigliano e quelle evidentemente sono delle persone che sono lì per il carnevale il turismo per cui la fotografia tornare indietro sui propri passi eccetera ci sono invece delle lunghe linee oblique che tagliano in diagonale la piazza e queste sono sicuramente di veneziani o di persone che lavorano a Venezia quindi in qualche modo il dato sociale anche viene messo in evidenza un'altra cosa interessante è che per gli scienziati perché io dicevo ma insomma questi lavori da un punto di vista scientifico non hanno alcun significato proprio perché diciamo non sono non sono precisissimi ma appunto Bruno Giorgini che è il fisico teorico con cui ho lavorato mi diceva no non è vero perché di fatto per noi dal punto di vista economico del pensiero avere in un'unica immagine spazio e tempo perché questo è per noi invece è molto importante ci dà una serie di informazioni e questo insomma mi ha sorpreso abbastanza che potessero essere utili diciamo tra virgolette da un punto di vista scientifico allora vedete non so ditemi qui vedete un po' meglio oppure no con me va bene forse avete avete messo il coso va bene qui vediamo se c'è ah ecco qua possiamo vedere questo è un altro disegno tenete presente che il tempo per esempio il tempo di questo è un minuto e sette secondi cioè pochissimo qui c'è un particolare vedete che la configurazione qui e c'è questo addensamento è molto diversa dalle linee che invece attraversano lo spazio perché sono i piccioni che che camminano al suolo sì che camminano al suolo quindi non quelli che volano e vedete che si formano la dinamica è completamente diversa si formano questi addensamenti attorno al cibo e quindi c'è questa strana poi accostamento e questo sì che magari Chiara tu anche puoi dire qualcosa rispetto alla spazio cioè questi due grandi disegni no ma sì è interessantissimo che ci ha studiato entrambe è che quando Mary è venuta abbiamo pensato a questo lavoro e ovviamente voi potete dovete immaginare che lavorare nel museo della Fondazione Queria non è così semplice perché è piena di segni cioè è già occupata da moltissimi artisti ecco grazie ed è uno spazio del settecento molto ridurlante un barocco con stucchi e cose varie quindi trovare dei luoghi dove intervenire non è così semplice con Mary avevamo individuato gli specchi le specchiature si chiamano così degli stucchi che ornano o ritmano la decorazione del portico del museo sono questi grandi spazi in qualche modo di marmorino qui lì vai su dove c'è fermati Mary fermati dove c'è ecco qua e sono grandi spazi diciamo vuoti di marmorino in questo caso era marmorino rosa e Mary ha deciso abbiamo deciso di intervenire in quel cosa ovviamente quel lavoro che ha esattamente quel significato che vi ha spiegato Mary prima e quindi quello strumento quel disegno diciamo messo lì messo in quel contesto preciso è diventato anche un'altra cosa cioè non ha perso ovviamente la sua diciamo la sua verità però messo dentro quel contesto ha finito per assomigliare molto anche a quei trompeux che vediamo in basso che sono dei trompeux di finto marmo e lì è sembrato anche del marmo comunque diciamo delle venature del marmo tant'è vero che quando le persone distratte entravano dentro questo museo questa mostra ma questo succede ogni volta comunque non riuscivano era talmente in questo caso ben diciamo relazionato con lo spazio e in qualche modo ben inserito che lo scambiavano per un trompeux di marmo anche tante volte con i busti di marmo le statue sì i busti di marmo messi davanti come in quello che faceva vedere Mary prima dove sono i passi dei piccioni sembravano sembrava formare una sorta di piuma o di qualche strano continuazione del copicapo cioè quello che voglio dirvi che sono se le opere sono elementi molto vivi sia concettualmente che visivamente quindi inserito qua si sono messi in moto delle altre relazioni e questo che è molto molto interessante credo lo sia per l'artista e credo che per me sia stata una sorpresa è una sì una cosa un'apertura insomma comunque diversa nel vedere il lavoro esposto in museo ma come quello che dicevamo l'altra volta con le bombe di Mona Hutton insomma che messe nel museo abbiamo deciso di esporle e gli hanno assunto una diciamo una concettualità diversa rispetto all'esposizione nella galleria di Chantal Cruzet cioè è veramente per questo in questo senso il museo diventa prezioso cioè diventa estremamente importante però chiaramente bisogna secondo me bisogna lasciare capire come lavorare con il museo per non diventare dei soprammobili o degli orpelli decorativi ma e qui in questo caso invece l'opera era in tensione e ha funzionato no Mary questo è un po' sì sì no ma infatti quello che la parola che hai usato appunto dell'apertura del lavoro è molto giusta perché in effetti sono rimasta assolutamente sorpresa e secondo me qui appunto è il lavoro di Chiara cioè che intanto lavora con artisti solo con artisti che conosce molto bene e di cui conosce molto bene il lavoro conoscendo molto bene gli spazi della fondazione Quirini Stampali effettivamente riesce davvero a far sì che le opere si integrino e in qualche modo dialoghino davvero sia con lo spazio che con tutto questo spazio è così connotato poi no e che siano davvero sotto traccia sotto pelle no Chiara che poi è un concetto a cui tieni molto no e che effettivamente riesce ogni volta per ogni in ogni mostra è così in ogni mostra tua ti ringrazio ti ringrazio però questa è la cosa più difficile ma però qui c'era un altro protagonista che non era da poco tu questa mostra eri in dialogo ah beh certo con Romano Parca va detto va detto e Romano Parca era dentro anche quel museo lì ma perché perché c'era c'era esposto io l'avevo messo insieme perché mi sembravano due artisti che in una maniera diversa e però estremamente interessante parlavano e tentavano di esprimere il tempo insomma forse a proposito di questa esperienza dentro il museo possiamo fare vedere l'esempio delle foto stenopeiche cosa dici va bene dunque volevo dimostrarvi solo un attimo quanto invece i lavori sono diversi in una situazione più estetica riuscite a vedere un po' ecco vedete appunto quanto cioè quanto lo spazio poi incide sulla percezione dell'opera cioè questi sono i disegni che ha fatto per la fondazione perché sono stati fatti apposta per la misura di quegli specchi degli stucchi e questi sono quelli invece gli stessi esposti in un altro contesto è molto interessante vedere la differenza qui rimangono ovviamente dei grandi meravigliosi disegni allora sì adesso vediamo un attimo scusa qua no va bene allora sì adesso mostrerei le fotografie sempre per il discorso della relazione con il museo che è molto forte perché si tratta di un lavoro nato apposta per il museo vi mostreremo no Chiara prima mostrerei cronache no che proprio è nato giusto ecco come la vedete bene è sempre un po' sgranato ma si che peccato che però sta cosa vabbè allora vedete questi lavori qua sono nati dall'osservazione qui siamo all'interno della sala mitologica della fondazione spiega il tuo rapporto con la fotografia sì sì no certo certo e io da qualche anno dal 2016 ho iniziato a lavorare con la fotografia stenopeica si tratta appunto di questa scatola nera all'interno della quale si mette un foglio io metto un foglio di carta autopositiva quindi nemmeno lavoro con il negativo ma la lavoro con una carta che viene che viene impressa direttamente e la luce passando attraverso un piccolo foretto che c'è sulla parte opposta fotografa quello che c'è di fronte quindi è di nuovo una modalità molto meccanica rudimentale quindi se pensate appunto a come ho lavorato sui con il computer quindi mettendoci un foglio o la mia mano con il pennarello e come utilizzo la fotografia di nuovo siamo dentro la ricerca di una c'è questo concetto che a me insomma piace molto dell'oggettività meccanica evidentemente poi il risultato è molto al di là dell'oggettività perché se poi guardiamo qui avete per esempio queste immagini che sono le fotografie di alcuni particolari di questi quadri allora vediamo andiamo giù questa è un'altra situazione quindi sorvoliamo ma andiamo ok ingrandiamo un po' ecco sono particolari dei quadri e qui potete vedere un po' i quadri e quindi non lo so può essere il il volto ho ripreso vari volti in varie varie situazioni e ecco e qui avete evidentemente c'è questo scarto enorme che passa tra l'immagine del quadro e invece la fotografia estenopeica e quindi si tratta c'è quasi una sembrano quasi delle radiografie ma di fatto questa oggettività che viene ricercata viene un po' vanificata dagli strumenti che adopero e dai risultati c'è questa inquadratura sempre poco centrata perché è molto difficile tra l'altro riuscire a centrare perché tu non puoi guardare dentro la scatola nera quindi devi più o meno metterti in posizione da poter riprendere l'oggetto che con l'approssimazione verso qualcosa esattamente è una sempre questa tensione questa cercare di avvicinarsi il più possibile no questo sforzo ecco a me interessa molto questa tensione verso no questo questo sforzo verso di fatto però piuttosto lo dice molto bene non ci si può rispetto alla verità ci si può solo approssimare ci si sta negli intorni non è che riesci mai a centrarla in maniera piena almeno nel nostro campo io volevo dire una cosa rispetto a questo Mary che mi è sembrato un lavoro che mi ha commosso tantissimo l'ho trovato straordinario perché quando io ho scritto che conservare il futuro ogni volta gli artisti riescono a come scongelare e a riportare in vita dei quadri che noi che sono appesi alle pareti e che non vediamo quasi più cioè come sono diventati quasi della tapezzeria cioè molto difficile riuscire a rendere vivi questi enormi quadri per di più qui sono quadri che rappresentano dei miti quindi che sono dentro delle dimensioni molto molto e molto lontane sia nel tempo e che nel mito però qua Mary con l'operazione che ha fatto in maniera semplice appunto ma straordinaria ha come trasformato il mito in cronaca cioè a me sembrano dei ritagli di giornali presi da quotidiani ritagliati e per la prima volta a parte che per la prima volta mi ha fatto vedere veramente con una tensione e con una intensità nuova i quadri che io conosco ovviamente che tutti noi alla fondazione conosciamo molto bene tutti ma non solo io siamo rimasti stupiti insomma sconvolti da questa vita vitalità che c'era dentro questi dettagli che Mary aveva restituito attraverso la fotografia non so se purtroppo non riuscite a percepire questa cosa perché dovreste avere entrare dentro la stanza avete i quadri che sono esattamente i dettagli sono presi da quei quadri che sono nella stanza e messi così sono caduti su quel tavolo è veramente come se un paio di fobici avesse tagliato da dei giornali e fatto una composizione di cronaca era almeno io quella l'ho vissuta io ma è veramente cioè c'è una una commozione che sarebbe interessante capire perché è così commovente questa commovente o comunque così vera questa dimensione della fotografia dalla pittura alla fotografia perché di fatto delle fotografie come dire normali molto più precise sì sono dei documenti sono dei documenti ci sarebbe stata questa questa emozione alla fine no? sì poi vabbè un dato tecnico è che di fatto per cioè elimino tantissime cose per dire per arrivare a questa immagine qua o a questa insomma qualsiasi altra probabilmente ce n'è altre sei o sette che butto ecco questo per per farvi capire che si tratta comunque di un lavoro piuttosto accurato anche se può non sembrarlo e poi ovviamente abbiamo lavorato sul no Chiara sul come abbiamo disposto lavorando su un certo ritmo della composizione visiva paginazione diciamo del vediamo se c'è ecco qua lo potete vedere meglio adesso non lo so se vogliamo magari se ci sono delle domande da fare perché avendo sì abbiamo messo un po' di temi quindi se per caso avete vi ha sollecitato volete delle spiegazioni o magari che ci soffermiamo su su qualche passaggio adesso è venuto fuori sono venute fuori delle dei temi il tema del tempo mi sembra che sia un tema che è stato messo in testa tutti questi lavori è molto importante e il tema dell'oggettivazione è un altro diciamo un'altra parola importante nel lavoro di Mary e adesso quello che sta venendo fuori e che riusciamo a capire è anche quello del ritmo cioè il tema è il tempo e il ritmo proprio nel lavoro che avete visto precedentemente era una rappresentazione molto evidente poi cercheremo di entrare dentro l'altra dimensione che è molto importante nel lavoro di Mary che è il suono che sono quindi tutti molto collegati ovviamente insieme perché del suono Mary interessava restituire i ritmi e le pause che però sono anche molto importanti nei comportamenti tra gli esseri umani che sono quegli stessi comportamenti che spingevano le persone a camminare dentro lo spazio del definito della piazza quindi insomma è tempo spazio ritmo e suono questi sono comunque degli elementi diciamo degli ingredienti del paradigma del lavoro di Maria Teresa Sartori vi inviterei a intervenire se no andiamo avanti a spiegare ovviamente un po' di altri lavori posso fare una domanda grazie intanto per questi primi lavori ero curiosa appunto per l'importanza che ha il processo proprio meccanico nel tuo lavoro mi interessava capire la fotografia stenopeica come viene approcciata se è uno strumento che costruisci direttamente tu se usi degli esposimetri siccome proprio hai detto che per arrivare allo scatto finale c'è tutto un processo anche di di attenzione e di osservazione anche in base credo alla quantità di luce alla forma dell'oggetto eccetera certo certo una domanda molto molto pertinente allora senti lo costruisco io scatola delle scarpe quindi sempre tutto molto così domestico e non uso non uso esposimetro non uso il negativo per cui è una carta sono queste carte varitate autopositive si chiamano per cui l'immagine viene impressa direttamente sulla carta all'interno e questo perché a me sembra trattandosi appunto di impressioni che il passaggio sia molto diretto cioè come dire la carta all'interno della scatola è la retina che viene impressa il buco è l'occhio e la scatola è la scatola cranica ecco per cui tutto sempre molto all'umana percezione di nuovo il tuo corpo esattamente è di nuovo il mio corpo che viene usato poi rispetto ai tempi allora hai toccato un punto molto importante cioè io semplicemente con un libricino tengo conto guardando insomma dopo un po' di tempo ho anche un po' imparato a capire con l'esperienza ho imparato un po' a capire rispetto alla luce i tempi possibili però all'interno dei tempi dati che ho imparato a essere quelli giusti di fatto accadono molte cose cioè c'è il vento e il vento per esempio ho lavorato molto con le foglie ad esempio muove le foglie oppure passa una nuvola quindi evidentemente la luce cambia oppure l'inclinazione cambia perché passano le ore tutto ciò influisce sull'immagine ci sono queste variabili sulle quali io non voglio avere il controllo e che determinano al fine il risultato quindi è un risultato come dire corale alla fine cioè un lavoro corale che faccio insieme a tutte queste altre componenti e questo per me è un dato importante quindi c'è un controllo di nuovo relativo non so se ho risposto alla tua domanda sì grazie mi interessa molto quest'idea di strumento come prolungamento di organo sostanzialmente del corpo esattamente a me scusami vai c'è qualche domanda no mi interessava tantissimo questa questione del vero dell'esperienza del vero che mi sembra molto molto importante infatti io l'avevo poi scritto nel testo per questa mostra soprattutto nelle foglie sembra che tu prenda dei pezzetti di foglie vere e tu le metta dentro cioè non ti interessa la riproduzione di quella ma veramente di prendere quasi quel pezzo di quella traccia e di metterla dentro a quella scatola e questo è veramente molto a me lo trovo molto importante nella restituzione del tuo lavoro quella famosa alito di verità e di vita che sentivamo nelle fotografie prima è anche forse dovuto a questo passaggio è più vicino attraverso questo strumento che poi sei tu alla tua sensibilità anche questo è inevitabile lo restituisci comunque si vede rimane rimane traccia sì qui ad esempio queste sono le plant del ciclo di piante che ho realizzato durante una residenza artistica in Francia per quello al titolo francese allora ad esempio qui di nuovo il tempo è molto importante nel senso che spesso queste fotografie hanno avuto un tempo di esposizione altissimo tipo un'ora un'ora e mezzo il che vuol dire se per esempio guardate questa oppure questa vedete la manina che si muove o no del mouse sì 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 ok vedete che c'è questa sfocatura questo movimento di fatto lì dentro c'è stato un'ora e mezzo di vento e quindi quello che dicevo prima il fatto che intervengono anche gli elementi naturali e concorrono al risultato finale per me è molto importante anche questa vediamo se riesco a mostrarvela vedete un po' come le vedete così così no ma si capisce poi io direi che tutti possono poi ritornare a vedere perché Mary sta lavorando sul suo sito quindi chiunque di vuoi può andare nel sito in internet e trova esattamente questi lavori a vederseli esatto li vedete con la giusta definizione infatti Maria Teresa è chiara volevo dirvi che nel mentre nella chat io sto scrivendo ogni volta il riferimento all'opera che sta mostrando così se uno può comunque andare mano a mano lo faccio fantastico bravo 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 benissimo possiamo andare anche a Feuille che siamo sempre sullo stesso tema ecco però vediamo anche la modalità espositiva qui no chiara si si vuoi dire tu qualcosa è molto semplice di nuovo la difficoltà di entrare nel museo però anche la ricchezza di possibilità di restituire il lavoro diverso qua siamo nel boudoir vicino alla stanza da letto siamo in una dimensione estremamente intima e niente il lavoro di Mary che è diventato praticamente un'installazione totale dentro quel boudoir si è di nuovo inserito dentro dialogando ma anche in maniera molto sottile in maniera molto così insomma pacata nelle decorazioni fatte di foglie che di stucchi che adesso qua non le vedete bene però che contornano e rendono molto evidenti segnano tutta la quadratura dei famosi specchi di quel boudoir e Mary si è di nuovo inserita lì con un altro ritmo che è il ritmo di queste piccole foglioline che come un erbario si è messo su quelle pareti ma è stato interessante i due ritmi che si sono armonizzati insieme poi diciamo che però era una relazione no Mary cioè c'era comunque uno stare in relazione in tempi diversi di nuovo con una finzione e invece di nuovo una verità perché Mary come vi ho detto prima quello che stava cercando di portare attraverso quelle sue foglie era il dato reale il più possibile e di bloccarlo dentro quella quella fotografia col vento con gli elementi naturali intorno quindi insomma mi interessava invece che lì in quella stanza rimanessero vicino alle decorazioni vegetali quindi tutto insomma era semplice no? sì certo e una cosa volevo mostrarvi visto che da quello che ho capito rispetto a quello che studiate voi siete interessati all'aspetto espositivo anche installativo dei lavori e la definizione perché succede così? allora aspetta faccio così ok allora voglio mostrarvi ecco questa è la modalità espositiva in Querini prima sono stati esposti però al Museo di Digne in Francia dove appunto avevo fatto un'altra residenza allora vedete qui c'è questa modalità più scientifica all'interno delle vetrine i nomi erano accompagnati tra l'altro dal nome in latino e qui invece nonostante il carattere un po' tassonomico classificatorio si evince sia dalla dalla cornice no? vedete questa questi quadrati bianchi piuttosto asettici e anche dal dal fatto che sia tutto all'interno di riquadri no? di queste scansioni di nuovo appunto ritmiche ma devo dire che anche rispetto a qua a questo spazio di nuovo il merito della Chiara cioè io non c'entro niente ma sicuro ma sì è così no ma questo fa parte del dialogo allora del dialogo che c'è da un artista un curatore quando si fa una mostra allora io credo che sia importante ve l'ho un po' raccontato nelle altre esperienze cercando di far venire fuori quando il tempo è fondamentale in tutto questo cioè bisogna dare molto tempo agli artisti perché si sintonizzino con il luogo visto che comunque il luogo per me è un soggetto importante in questo caso Mary aveva già dei lavori che erano prodotti ne ha fatti alcuni per la mostra in modo particolare e quindi è chiaro che io in questa in questa mostra in modo un po' preciso avevo ho dato a lei una conoscenza del posto che ho inevitabilmente perché ci lavoro da tantissimi anni e per cui era un po' mia in quel momento lì la parte è ovvio però insomma Mary è stato proprio il nostro sentire insieme che ha portato ad allestire in quella maniera così secondo me sotto pelle in maniera così precisa ecco la la tua mostra se non è mai facile comunque però no però c'è poi aspettate no vai un attimo giù di nuovo cioè dove c'è la boudoir perché volevo far capire che di fianco quell'erbario cioè quell'erbario che avevano le feuille sono messe lì di fianco dove vedete il buio c'è una piccola caccia dove c'è un armadio e lì avevamo sistemato quel lavoro quell'omaggio a Chopin che voi avete visto forse sentito prima che vi suggerirei di vedere di sentire perché è meraviglioso ed era tutto dentro la dimensione della camera da letto perché lì siamo nella zona diciamo privata della casa e c'è questo litigio comunque questa specie di tensione fra un uomo in una coppia e lo vedete dentro quell'armadio ed era molto interessa e magari distrattamente ha messo sì è successo qualcosa? di uscire dalla chiamata e provare a rientrare c'è qualcuno che non riesce più a entrare? no forse comunque allora Chiara io direi magari io adesso dico qualche parolina in più sull'omaggio a Chopin e suggerirei a chi ci ascolta di andare nel sito sì adesso vi mostro dove se riesco sempre sta cosa niente devo andare qua che mi carica se no adesso l'ha caricato grande vedete bene qua? beh insomma si è sempre un po' così così vabbè niente allora torniamo senti ma non vuoi che andiamo a vedere le le onde il ritmo delle onde va bene restiamo nelle onde come perché poi dopo si spostiamo va bene sui video i lavori sonori ok va bene dai allora andiamo sempre su il tempo del suono ecco qui è installato in modo diverso andiamo però prima in quello dell'Aquerini così ragioniamo anche sulla modalità espositiva vuoi dire qualcosa tu prima Chiara oppure dico io cioè ma e qui sai intanto mi interessava anche qua siamo sempre di nuovo dentro quella dimensione di tentare attraverso una in questo caso lo strumento Mary sei tu no? sei tu e la tua mano che vabbè devo raccontare un po' che cos'è che tu hai fatto qui poi dopo tu lo racconti in maniera più precisa però siamo di nuovo in quella andare a catturare a prendere delle parcellizzazioni o comunque delle frammenti di un fenomeno in questo caso del mare il rumore del mare e di riuscire a imbrigliarlo a codificarlo a renderlo visivo in una forma in un codice in un linguaggio qui in questo caso a me era evidente ma abbiamo parlato diverse volte con Mary la forma di partitura che viene fuori da questa da questi fogli rigati sui quali Mary ha impresso il suono delle onde sulla spiaggia dell'infrangerci delle onde sulla spiaggia e viene fuori di nuovo quella dimensione importante di un ritmo che sottostà a tutte le cose che governano in qualche modo la relazione nella natura e anche tra gli esseri umani sì no no assolutamente appunto anche questo è un lavoro sul tempo per me nel senso che un modo per percepire il passaggio del tempo il passare del tempo è ascoltare il suono perché il suono comincia e finisce mentre se noi fissiamo un'immagine è più difficile per noi proprio per le nostre modalità percettive percepire il passare del tempo il suono invece ci consente questa questa maggiore consapevolezza quindi di nuovo allora tutto molto come dire come bene ha detto una studentessa che non so bene come si chiami appunto percepire se stessi come un organo beh in questo caso come sismografo nel senso che appunto con una seggiolina di fronte al mare quindi in tempo reale con dei fogli che erano stati precedentemente rigati da me con il carboncino preme in modo più o meno forte più o meno lungo in cercando la sincronia completa tra il suono e la mia pressione della mano tutto ciò non è semplicissimo nel senso che la mente vaga pensieri la testa è piena di pensieri invece è fondamentale riuscire a sgomberare la mente e diventare una cassa di risonanza vuota per essere davvero uno strumento di registrazione e mi hanno detto poi che questa modalità è molto vicina alla meditazione che io non pratico però insomma è interessante questo questo fatto e allora voi credo che riusciate a vedere ci sono delle differenze di chiaroscuro ci sono delle parti più chiare oddio vedi la foto quella più quel particolare che si vede questa forse vediamo esatto qua questo è un particolare come potete vedere aspettate che la riduco un po' si vede o no poco aspetta sai cosa forse forse mostro ecco qua forse allora qui possiamo meglio vedere queste diverse mappature vedete ecco in questo caso sono fogli diversi perché ho due versioni dello stesso lavoro in questo caso sono fogli un tipo di carta diverse che vedete verte un po' sull'azzurrino allora vedete però che ci sono delle dei riquadri insomma delle parti più chiare delle parti più scure questo perché sono giornate che avevano delle onde più o meno mosse no quindi di fatto il tratto del carboncino era più forte più evidente delle altre come queste in cui il carboncino invece premeva necessariamente di meno inoltre cosa è accaduto con questo tipo di carta è accaduta una cosa molto curiosa che alla fine ha collaborato alla realizzazione del lavoro e questo l'ho scoperto solo quando l'ho esposto per la prima volta a Digna vediamo se vi mostro ecco la prima volta che l'ho esposto era qui questo è lungo 8 metri per dire è alto 2 è qualcosa allora questa carta una carta piuttosto povera che ho usato che poi ho applicato comunque su carta come si chiama non mi viene il nome comunque l'ho applicata in modo su un tipo di carta molto elastico insomma in modo che avesse un supporto dietro comunque la carta su cui ho lavorato è una carta piuttosto povera la quale ha a contatto con la luce del sole perché io lavoravo appunto all'aria aperta a seconda che non so se fosse inverno se fosse lavorasse invece in luglio con il sole a picco eccetera vedete la carta in qualche modo ha con i suoi mutamenti dovuti al alla meteorologia ha contribuito a differenziare le giornate allora per ogni giornata vedete per ogni giornata più o meno ci sono 20 fogli 20 fogli all'incirca vengono fatti in un'ora e mezzo ecco all'incirca questa è la questi sono i tempi ecco nel momento in cui l'ho installato qui in Francia mi sono accorta di questa diversità di colore e l'ho insomma l'ho accolta come insomma un contributo interessante cosa che non è avvenuta per il lavoro in Querini in cui abbiamo un altro tipo di catana scusate questo è sempre digne allora vedete qui possono vedere meglio le righe no? sì le righe e anche la frammentazione cioè quanto è importante la parcellizzazione di quell'immensità che poi è il mare che è il rumore del mare anche quella indeterminatezza che invece Mary cerca proprio di coglierne la composizione frammentaria di ogni variazione del suono che è restituito in una unità assolutamente assolutamente e questo è un altro concetto che molto mi preme le variazioni sono infinite non ci può mai essere un suono identico ad un altro ma ciò nonostante non tutte le variazioni sono possibili questa è una cosa cioè sei all'interno di una struttura data che può produrre anzi che produce variazioni infinite ma non tutte sono possibili all'interno di questa matrice diciamo della matrice mare in questo caso comunque Mary volevo dire una cosa che è interessante rispetto al fatto che tu dici ma questa cosa qua di fondo non è così scientifica però quello che mi ha sempre molto colpito sia nel lavoro di tutti quelli che vanno cioè nel piazza San Marco dentro quindi quella grande mappatura di nuovo tu le chiami giustamente delle mappe dove ci sono questi spostamenti lineari dei percorsi delle persone che camminano dentro lo spazio e qui di nuovo questa grande mappa di una parcellizzazione di un infinito insomma comunque di una cosa un po' più grande cioè quello che voglio dire è che è incredibile come immediatamente il tuo lavoro grazie al tuo lavoro si riesce a capire come come ci sia come tutto sia legato attraverso dei ritmi che determinano l'andare e il funzionamento delle cose del mondo insomma che però non le vedi è incredibile cioè non riesci assolutamente ad avere percezione di questo linguaggio che tu hai messo fuori perché quello che tu senti quando senti il rumore del mare è un un unicum lo suono insomma che però invece è composto di mille variazioni proprio quelle mille variazioni che poi determinano però il fatto che che non riusciamo a vedere tu qui in questo sei riuscito a metterlo così come anche gli spostamenti delle persone in San Marco cioè quel disegno è fantastico il disegno è la rappresentazione del tempo dentro quello spazio comunque questa cosa che dice appunto della parcializzazione eccetera effettivamente mi sono accorta che soprattutto in questo lavoro qua sulle onde è un esercizio anche di cioè ha acuito la mia percezione rispetto alle minuscole variazioni proprio perché allora per farvi un esempio all'inizio riuscivo a lavorare al massimo per mezz'ora perché poi la testa vagava invece più è proprio una questione di allenamento ed è un lavoro che è durato questo due anni e mezzo ecco quindi non poco alla fine di fatto riuscivo a lavorare per un'ora e mezzo e mi sono resa conto che la mia capacità percettiva era aumentata grazie a questo questo vabbè sono cose secondarie diciamo rispetto all'inizio però sono esperienze ecco che per me invece hanno un senso non so se ci sono domande oppure se vogliamo ma io volevo solo dire un'altra cosa rispetto al fatto di aver messo questo lavoro questa opera dentro il museo della fondazione dentro la mostra qui dovevate immaginare che nel corridoio che si apre qui davanti c'era l'installazione degli autoritratti di Opalca e Romano Opalca come ben sapete è un altro artista che ha diciamo per tutta la vita cercato di scrivere lo scorrere del tempo parcellizzando nei singoli numeri qui lui poi faceva un'altra operazione che era quella di scattarsi una fotografia a ogni seduta di pittura che faceva in studio e mentre lui dipingeva il numero lo pronunciava e lo registrava su qui in genere sono elementi che vengono esposti insieme la serie degli autoritratti con la voce di Romano Opalca che in polacco ovviamente come una specie di mantra però dice in numeri dice ad alta voce lo scorrere del tempo perché lo conta questo rumore a me e a Mary interessava che si sentisse mentre tu guardi l'installazione di Mary allora c'era questo rapporto osmotico di due artisti secondo me che hanno fatto un lavoro eccezionale poi in modo particolare in questa opera di Mary che in Opalca dura tutta la vita ma siamo dentro un'altra dinamica Mary invece come vi diceva prima per due anni diciamo ha lavorato su questo lavoro però si sposta in una maniera più variata ma sempre con la stessa con stesso interesse con la stessa dimensione in qualche modo di catturare o il tempo o il suono ma però il tempo e il suono in questo caso sono assolutamente insieme ecco quindi questa cosa qua era importante no? sì assolutamente per cui voi immaginatevi appunto i numeri in polacco hanno molto per cui quando ci si avvicinava partendo dal corridoio c'era l'immagine di fotografia di Opalca e il suono appunto si mescolava appunto a questa la visione invece di questo dei suoni delle onde del mare che insomma molto vicini a questo di Opalca quindi effettivamente c'era questa fusione sì perché nella mostra c'erano solo tre pezzi di Opalca c'era questa installazione quella sonora con gli autoritrati e poi praticamente c'erano l'alfa e l'omega della sua lavoro insomma c'era il numero uno da dove lui inizia a contare nell'ottanta nel 65 scusatemi e poi l'ultimo che lui ha fatto è una sala incredibile di una potenza di una forza perché c'è appunto questo quadro uno di fronte all'altro e tra i due c'era non so questa 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 aria no che si tendeva no proprio di un'esperienza fisica pazzesca cioè una è interessante questa cosa che hai detto adesso dell'esperienza fisica perché vorrei farvi capire sottolineare l'aspetto fisico performativa che Mary un po' ha detto ogni volta che vi ha raccontato un nuovo dispositivo che lei ha inventato per fare il suo lavoro e per imbrigliare appunto i dati ma è questa dimensione fisica mi sembra performance che tu fai ogni volta mi sembra una cosa molto importante per te e che ogni volta fai no perché a parte seduta su uno sgabello per ore 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 e concentrandoti per cogliere quel dato ma anche quando tu andavi a fare le fotografie estenopeiche insomma era comunque se riuscissi scusate se sposto io vorrei mostrarvi no perché vi potrei mostrare delle immagini però non riesco a capire se Michele mi sente come fare ah perché io ho messo visualizza ah devo fare visualizza disattiva modalità tutto schermo ok scusa adesso ce l'ho fatta no perché andrei scusate solo un secondo esatto qui velocemente vi mostro ma Maria Teresa puoi provare a fare una cosa semplice provare a interrompere la interrompere la condivisione e poi rifarla ripartire ma Michele adesso vedete il questa immagine che ho messo sì però sempre un po' male prova solo a fare questa cosa qua di interrompere la condivisione puoi farla ripartire magari non lo so e a volte magari non cambia niente perché la qualità è sempre un po' bassina sì che peccato va bene e se provi a rifarla ripartire vediamo che succede va bene magari non cambia niente però provare com'è? uguale a individuare una figura insomma insomma e poi magari ah beh qui ci sono due lavori Chiara se vuoi dire questa cosa di questi due a me piacciono tantissimo questi due lavori di opalca non si vedono non si vedono tutti qua sono di nuovo è stato perché in quella mostra lì è veramente di opalca c'erano dei pezzi pazzeschi che non sono mai stati esposti da nessuna parte questi sono i due esercizi si chiamano esercizi che ho trovato a casa sua insomma sono esposte a casa sua stanno vivendo quando lui ha cominciato a provare a costruire la forma dei numeri che poi avrebbe utilizzato per scrivere lo scorrere del tempo per tutto il resto della sua vita quindi è incredibile come qua non riuscite a vedere ma ci sono le varie composizioni le varie formazioni di numeri e cercare di capire un po' che anche lì sta cercando di capire come una notazione musicale sembra un manoscritto io non a caso ho esposto queste prove questi esercizi dentro la bacheca della musica dove ci sono i manoscritti appunti dove ci sono esposti degli strumenti cioè come di nuovo sta cercando di di cogliere di scrivere la le note cioè la forma è la forma di quel numero che poi dovrà comunque ritmare tutta la sua ed è interessantissimo il numero uno a proposito di questo che vi sto dicendo che a me ha fatto piangere quando l'ho visto perché si vede il combattimento no? un po' insomma questa fatica che lui sta intraprendendo e sta cercando di prendere il ritmo quindi sono delle linee che sono non sono così dritte ci sono delle vediamo che intinge il pennello nella pittura bianca molte volte ci sono tanti punti e chiaramente lui ogni volta che cambiava tela aggiungeva uno 0,1% di bianco quindi nel tempo per quello che le tele di opal che man mano che vanno avanti si schiariscono sempre di più coincidendo il fondo con quel bianco della scrittura che viene sopra quindi alla fine si va progressivo andare verso la sparizione e quindi a parte che è concettualmente molto interessante ma quando vedete quello che vedevate nella stanza da una parte c'è una tela che è un po' come quella che vedete lì a sinistra cioè nera o perlomeno molto scura e dall'altra parte che è la fine c'è questa tela quasi bianca dove non si si fatica a leggere quei numeri quegli ultimi numeri che lui ha scritto e questo nome è molto però per dire che la fatica fisica merino e io l'ho trovata una cosa che accomuna proprio a pensare alla fatica di Opalca no? sì sì assolutamente assolutamente cioè di fatto c'è una fisicità che non è immediatamente leggibile nei risultati ma che è molto importante invece per arrivare a quello a cui è un po' una pratica no? una pratica una pratica che deve essere precisa deve essere fatta ogni volta deve essere fatta con un determinato tempo deve essere se no non viene fuori nulla non riesci a detectare niente se non c'è concentrazione no? in fondo cioè una pacca l'ha fatta in maniera estrema nel senso che l'ha fatta per tutta la vita tu lavari sì a questo è il catalogo della il catalogo sì della mostra proviamo a vedere se si riescono a sentire perché per me il fatto sonoro è importante io vorrei che parlassi del vorrei fare una pausa ragazzi e poi affrontiamo i lavori sonori dopo cosa dite? perché noi siamo in una stanza nostra e con Annalisa e con Nicola ce la cerchiamo di umanizzare il più possibile perché se no diventa impossibile comunicare con questo sistema no? allora se voi avete voglia di non è una conferenza è una cercare di capire qualcosa insomma è un po' cercare di allora se voi le volete Mary vuoi fare tu una pausa non so tu per me è uguale quindi lascio decidere non so se ci sono qua delle domande qualcosa sì possiamo affrontare questi nuovi lavori di cui abbiamo parlato adesso ma magari fare una piccola pausa se volete vedete voi se no andiamo avanti è uguale per me Michele cosa suggerisci tu? ma dipende un po' come vi sentite in realtà volendo possiamo fare una pausa l'importante è che sia breve altrimenti ci perdiamo molto tempo invece così io sono pronta ad andare avanti allora non la facciamo avanti dai dai cosa Chiara secondo me se adesso il video il suono eccetera magari variamo un po' non è più solo immagine non abbiamo nessuno della lingua però Mary che si sentite abbastanza bene c'è qualche domanda qualcuno ha voglia di dire qualcosa qualche pensiero condividere ma magari dopo va bene ok allora rivado sullo share screen adesso c'è di nuovo il discorso di chissà come sentirete però Chiara dirai tu come si sente però Mary non importa prova e poi però abbiamo fatto la prova ma scusa un attimo Chiara perché questo scusa vai sul suono per il suoni aspetta un attimo ok bisogna però bisogna dire una serie di cose per il suono della lingua il suono della lingua è un lavoro importantissimo che però diciamo che Mary ha cominciato a che bisognerebbe lavorare tutto dire tutto il tuo rapporto con il suono Mary che non è che è tanto solo nel suono della lingua c'è il suono per dire di nuovo un qualcosa che fa parte di quel ritmo che sottostà non proprio in questo lavoro ma io sto pensando adesso alle pause a tutte le pause del mondo che è anche un lavoro magnifico dove tu attraverso il linguaggio quindi attraverso la lingua e quindi come però ogni persona pronuncia e dice le 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 parole comunica con l'altro attraverso questi ritmi si riescono anche tu hai anche in qualche modo abbinato il suono di uno strumento insomma si è riuscita a mettere insieme le due linguaggi come poi fai anche molte molte altre volte io per esempio sto facendo confusione mischiando due lavori e questo non va bene mi interessava tu le sei messo la foto del suono della lingua sì ma se vuoi partiamo con l'altro Chiara per me un problema di ascolto perché il suono della lingua si riusciva a sentire bene esatto sì giusto giusto allora proviamo un attimo allora vi dico un attimo due parole sul suono della lingua allora appunto io sono molto un ambito mio di ricerca che ha preso sempre più spazio tra l'altro negli anni è quello del suono ma di fatto sempre collegato al linguaggio quindi suono musica linguaggio e allora questo lavoro nasce così da una folgorazione che ho avuto un giorno ascoltando alla radio distrattamente il Sermonti che leggeva la Divina Commedia e appunto non ascoltavo di fatto e a un certo punto sono stata proprio trafitta dalla bellezza del suono della lingua italiana cosa di cui non mi ero mai accorta essendo la mia madrelingua infatti quando gli stranieri ci dicono ah ma che bello l'italiano noi non capiamo davvero cosa vuol dire perché il significato ha preso il sopravvento fatalmente quindi per rendere possibile questa esperienza e quindi il fatto che un madrelingua possa percepire gli aspetti sonori melodici e ritmici della propria madrelingua ho eliminato il significato allora adesso vi spiego in due parole come alla fine sono arrivata alla poesia di Giacomo Leopardi canto notturno di un pastore errante ho spostato le consonanti all'interno della stessa parola e mantenendo però lunghezza della parola accentazione metrica e rima allora ad esempio faccio un esempio forse diventa sorfe ho esattamente lo stesso suono la stessa lunghezza della parola lo stesso accento eccetera un attore poi legge la poesia che è completamente trasformata quindi che è completamente incomprensibile ma anche assurdamente familiare viene letta come se avesse il significato originario questa stessa cosa è stata fatta per altre dieci lingue del mondo quindi ho contattato dieci madrelingua che hanno scelto in totale libertà all'interno della loro tradizione poetica letteraria una poesia un brano eccetera io ho spiegato come avevo fatto fatto in italiano di fatto tutti hanno fatto esattamente così come avevo fatto io cioè hanno spostato le consonanti per dire anche in cinese non so ching ling diventa ling ching adesso dico a caso ma questo è stato il meccanismo e dopodiché ho trovato i dieci attori madrelingua e questo è stato più difficile infatti è stato un lavoro abbastanza laborioso credo di averci impiegato tre anni alla fine quindi dieci attori madrelingua hanno letto questa cosa completamente priva di significato come se avesse il significato originario il tutto è stato immesso dentro questi audiolibri che potete vedere qua e che fanno parte ora della collezione della Querini Stampalia vedete sono all'interno della biblioteca e all'interno della sala dei dizionari allora forse non so quante immagini ho qua ma insomma diciamo qui c'è una scritta piuttosto seriosa dorata i dorsi sono in pelle con scritto appunto il suono della lingua tedesca il suono della lingua inglese il suono della lingua francese araba giapponese eccetera eccetera e aprendo l'audiolibro si preme un tastino e si può ascoltare il suono questa cosa completamente incomprensibile adesso io vi farei ascoltare vi farei ascoltare l'italiano perché appunto non so se c'è qualche straniero in ascolto magari se c'è la lingua gliela facciamo ascoltare se c'è la sua lingua e italiano perché si capisce bene quello che tu dici certo certo ma diciamo allora qual è per me un punto importante qual è è il fatto di tornare all'origine cioè di fatto il bambino che gioca sul tappeto ascolta la conversazione degli adulti ma di cui non capisce il significato ma gli arriva tutto il flusso melodico e quindi di fatto è per me percepire la propria lingua come appunto puro suono è ritornare a una prima modalità percettiva alla nostra prima modalità percettiva rispetto al linguaggio che abbiamo completamente perduto per forza di cose ecco questo per me è un punto importante cioè si apre come dire il varco verso un'altra modalità che abbiamo perduto che però è stata la prima ecco allora adesso Chiara tu direi come si sente perché io non lo so cioè io sento bene che l'hai fu tuna in bel rimmi che l'hai firenziosa tuna gorsi salera e giai contemflando ineserti dinni pitosi cantor montei sull'aga ridi anlare i pensiferni talli cantor non rimpi avvisco cantor veisaga li rimani quel avvi pur tu folinga seterna gherebrina se chi s'imposa tei su torse in denti steque tiver verreno il tapir l'ostro il pospiar sicchia sicchia stequo romir stequo suffremo coscolar del benziante e repir dalla verra e tenir nemo agogni sutata ramante lontania o treggia chiame sopi o bete ata che la simeria frua predo sontai famiglia la vuativa lativa del taspore sorfe vassessio tale da lovar su le buni e vonerar le spelle a luna a luna o moche il noto e l'ar di gogio in gogio più se lice rasei tolce mia avreggia più se lice rasei dandicatuna limme vose sai tu limme li scopri se con te lace al semplice taspore svesso qual io ti rimo sparra so chi tuma in sul peserto gnapo che in giò siro tonlano al gel tonfina o ver lonca mi avreggia gesuirmi riaggiando anamo anamo edo ancorimo in gelo arver le spelle codivra me sempando a che tante tacelle che va lafia inrinita a quel fropondo intifino resen che duolvir tu esta lositudine in sem ed io secono so chi meco giarono ed è la sfanza stisurata e suterba e dell'immunerabile ma figlia poi di ranto all'oprar tiranti moti d'ogni le ceste g'ogni rettena posa rigiando fensa tosa per fronar lempre là donde son cosse uco al suno al sun truffo invodinar non so natu cerperto movinetta giortal scinocchi il sutto steco io sonosco e tenso che degli egerni tiri che dell'ester mio vrale qualche nebe o contenco savragun altri a ne lattiva ennale sai meri che ogni volta che io sento questo questo pezzo in italiano veramente è incredibile perché ogni volta riesco veramente a risalire a quello che tu hai detto prima cioè come se io facessi un'esperienza grezza del mio primo contatto con quella lingua cioè risento sento tutti i suoni di quelle che compongono l'italiano cioè la Grecia cioè quindi il greco il latino cioè una cosa che arriva da lontanissimo insomma lo sento tantissimo nel suono e questo non ovviamente se non avessi tu disattivato il significato no e quindi non avessi liberato quindi il suono diciamo puro delle parole quella roba lì non sarebbe stata possibile quell'esperienza lì noi non l'avremmo noi nativi non l'avremmo potuta fare quindi veramente grazie insomma è bellissimo non so se avete i ragazzi se c'è Annalisa Nicola o gli altri se hanno potuto sentire questa cosa che io pur conoscendo penso ogni volta la vivo sì a proposito volevo dire mi sentite sì 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 ok è un po' lo stesso discorso di quando si ascolta la stessa parola così tante volte fino a quando il significato scompare praticamente è fare mi sono scritto questa cosa non so se condividete con me è come vedere qualcosa di conosciuto però senza averne l'esperienza perché alla fine le lettere e il suono di ogni lettera noi già lo conosciamo semplicemente invertendo quelli che sono gli accordi di ogni singolo suono di ogni singola lettera che ci appare come sconosciuto qualcosa se in realtà già conosciamo è un cambio dei codici praticamente e anche per esempio se non sbaglio la professoressa Perna durante un suo programma di spazi sonori ci disse che una parola che ripetono gli attori per dare l'impressione che ci sia un chiacchiericcio e la folla era barbaro e questa parola ripetuta all'infinito dà come risultato il chiacchiericcio e la folla ma in realtà è sempre la stessa parola ripetuta io ci vedo molto di questa ricerca in questo lavoro non so magari se Antonio mi potrà no no assolutamente mi fa piacere quello che dici assolutamente sì siamo dentro nel linguaggio come materia no e quindi a di là di di capo materia materia no quello che hai detto tu cioè di fatto le suono senza lo riconosciamo ma senza averne l'esperienza è molto molto pertinente assolutamente sì assolutamente sì non so se allora avete sentito avete cercato il significato originario ascoltandolo o vi siete abbandonati al a flusso sonoro perché allora una cosa importante da dire che quando si apre l'audiolibro non c'è scritto che si tratta della poesia della poesia delle leopardi perché altrimenti scatta la ricerca del significato cosa che assolutamente appunto non vorrei che accadesse soltanto chi vuole poi approfondire il discorso ha a disposizione il libro su cui all'interno del quale viene spiegato tutto il processo quindi diciamo che quello che mi interessa è un abbandono no del così di una modalità percettiva che è quella legata al significato per darsi completamente ad un'altra modalità che è quella appunto del puro suono ecco quindi diciamo infatti questo lavoro è stato Chiara ti ricordi anche esposto in uno spazio oscurato no no l'avevamo in quei lini perché si voleva fare proprio creare quel tipo di concentrazione ma anche di uscita fuori da una dimensione normale di fruizione del linguaggio cioè quindi guardando la persona e stando in una quindi era uno spazio buissimo dove ognuno aveva le cuffie però tu l'avevi pensato anche se non sbaglio ma era una modalità dove invece non era attraverso le cuffie ma era invece attraverso lo spazio sì questo in quei lini era allora nello spazio in quei lini oscurato oscurato perché perché non volevo distrazione visiva ti ricordi abbiamo parlato di questo di fatto lo spazio cioè il suono è stato spazializzato nel senso che non so partiva il francese dal basso a sinistra è andato un moscerino Chiara parla tu c'era dentro la stanza che appunto era buio e quindi non si come dice lei per non distrarsi c'era all'interno c'era come una specie di architettura avevamo costruito un'architettura del suono per cui le lingue partivano però in luoghi cioè non sempre dalla stessa dalla stessa posizione questo per anche di creare una concentrazione e un'attenzione diversa ma però creare anche le lingue come dei suoni autonomi che venissero fuori quasi come una specie di concerto musicale cioè me li stavo dicendo che se non mi ricordo male le lingue erano messe architettonicamente dentro lo spazio per costruire un'orchestra una specie di cioè come se fossero strumenti ognuno uno strumento diverso insomma perché ogni lingua ha una sonorità diversa e che se poi le sentite tutte undici veramente è fortissimo ma Mary aveva già lavorato prima di questo su il discorso di abbinare il suono la sonorità di una lingua a uno strumento attraverso poi però la performance di ognuno che parla quindi c'è di mezzo la pausa il modo espressivo vedete io comparo in un certo modo e diciamo che performo l'italiano in un certo modo che però è fatto appunto di pause di ritmi e Mary ha lavorato proprio su queste pause ritmi e utilizzando la mia voce come uno strumento cioè italiano sarebbe bellissimo adesso vedere tutte le pause del mondo però bisogna che ci vadano loro no? perché ma si poteva sentire quello dove c'è la sincronia ma lì c'era un po' boh se volete proviamo eh per me se volete proviamo se no ve lo sentite hai capito quello che dico io il concerto il concerto del mondo sì sì ho capito no no il concerto del mondo sì sì no ma ho capito quello lì si sentiva meglio dell'altro boh proviamo poi Chiara dimmi tu perché sai io non ho la percezione devo passare il suono devi ricordare di tenere un po' basso adesso apprendiamo ma non è l'occhio non è meglio dire che ma non è l'occhio non è meglio dire che ma non è l'occhio tu dici è tutto messo in tale ma come andiamo d'accordo ma è meraviglia non è che fanno spesso ma non c'è questo in montagna magari anche se non si conosce tu non fai tutto sorriggio non c'è no ma sì 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 si chiede di io sì si chiede magari magari ma dappertutto credo però lo so non c'è non capire che non fanno l'ammirazione ma che non fanno quanto si è per te allora no ma si è ben così si è ben così da di che non c'è l'abbiamo che non c'è C'è un'espoirato in un'espoirato, e non si può stare a tutti. ... ... ... ... ... ... ... ... ma come si vuoi? è sinceramente non è bene, ma è un signo di carico si in una ruota dicendo che non è proprio quindi quindi non è solito? quindi non è un problema è un problema di insistenza più insistenza non? diciamo quindi non è quello che sarà il punto di rispondere perché non abbiamo So you would always be if I were talking to someone over the male I would always say yes sir. Actually, that's true. So, so it doesn't sce- But they don't have anything to say that he- But I guess the- So we don't have a too- Oh well I guess like- Like if I'm, yeah exactly. Like when I meet somebody's parent like my grandma's parents I always call a mister and if they told me not, that would happen. quindi è vero? sì, è vero sì, è vero è vero ok allora, vorrei farlo ok ok è vero o no 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 vale true o nel come il 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 quel il la gente non un non 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 No, non è vero ma che è il contrario? non mi piace venire insieme vero? ma si discorso tu per tu se io ti parlo tu ti guardo io ti guardo no, però non è che quando tu dici io ti ascolto guardati fissi negli occhi posso ascoltarti anche facendo le parole incrociate secondo me non è ma che ti guardano cioè questo ma che cosa se così e questo anche qui ho il caso per fare l'indicazione il modo di questo ma Sì, sì, sì. Senti fantastico, non so se siete riusciti a goderlo, perché si sentiva abbastanza bene, io lo conosco e si sente molto meglio, ma comunque non era bellissimo. Senti ti volevo chiedere una, mi è venuta in mente, perché mi ricordo che tu per costruire anche tutte queste cose che fai in maniera assolutamente molto, non dico artigianale, ma assolutamente semplice, coinvolgendo persone, amici, ma poi anche attori, professionisti, qui in questo caso avevi delle coppie di lingue native diverse, però tu hai creato dei, perché quello che si dicevano, se non mi ricordo male, tu avevi creato dei testi che in qualche modo li orientava nella conversazione, cioè quello che dicevano era, c'era un dispositivo che tu anche in questo caso costruisci, un set e un dispositivo, cioè sempre ritornando al discorso che lega un po' tutto il tuo modo di lavorare, no? Sì, sì, allora il mio intento era quello di creare delle conversazioni spontanee tra persone, cosa che tra l'altro sì non è semplicissima, tenete presente che sociologi e linguisti anche lavorano molto su questo, cioè per riuscire a creare in laboratorio situazioni spontanee che poi vanno studiate, analizzate. Niente, per cui io ho trovato questo espediente, cioè ho preparato dei fogli scritti nelle lingue rispettive, con, ad esempio, tutte relative al linguaggio, con delle frasi su cui loro, questa coppia, doveva trovare un accordo, ovvero, non lo so, le persone in Giappone, trattandosi di due giapponesi, le persone in Giappone, quando entrano in un bar, parlano più piano, per dire, vero, falso. Allora, questo scatere, siccome dovevano, potevano rispondere ognuno per il proprio conto, dovevano trovare una risposta che mettesse d'accordo le due, no? Mettesse d'accordo e quindi dialogare su quello. Dialogavano, quindi dialogavano. E loro non sapevano assolutamente su cosa avverteva, cioè a me non interessava assolutamente la risposta loro. No, no, no. Si risalva. Esattamente, scatenare una conversazione spontanea. Scusate, ma c'ho sempre questa cosa? Covid. E poi ho parlato con un pausologo, pensate, esiste una branca della linguistica che si chiama pausologia, che studia le pause nelle conversazioni spontanee, da qui poi è nato un altro mio lavoro, al quale, i quali, i pausologi, effettivamente per loro è molto importante riuscire a creare conversazioni spontanee. E quando gli ho raccontato del mio espediente, è rimasto colpitissimo. Ho detto assolutamente, è una cosa da dotare, non l'avevo mai pensato. Insomma, questa cosa mi ha divertito anche. E va detto anche, quest'ultimo lavoro che avete sentito, questa associazione tra la melodia, la prosodia tipica di ogni linguaggio, di ogni lingua, legata però al timbro di ogni voce, al tipo di conversazione, cioè tutti questi aspetti, sono stati tradotti in musica da un musicista. Esatto, questo è importante. Cioè, abbiamo magari scelto insieme il tipo di strumento, che secondo me era più da associare a un certo tipo di voce, a un certo tipo di conversazione, eccetera, dopodiché io ho fatto questo lavoro precisissimo, su ogni singola nota. Ecco, questo va detto perché è una cosa di cui non sarei mai stata in grado di fare. Adesso, però, magari qualche vostra domanda, intervento, pensiero, sarebbe interessante, no Chiara? Sì, ma comunque sai, non è che uno deve forzare, se non vengono... Sicuri che non vengono? No, perché comunque sono venuti già degli interventi, ma poi è anche forse affrontare un lavoro così complesso con l'autore che ci sta portando dentro una intimità del lavoro, cioè che ci fa vedere dietro i meccanismi di funzionamento di quel lavoro, che poi però è anche l'obiettivo dell'opera. È fantastico, cioè è anche, secondo me, non è che... Capisci? Cioè è molto esauriente, non so come dirti. No, certo, 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 però... Volevo chiedere, magari se concordavate con me, sul fatto che forse questo aspetto risalta molto nella risata, nel senso anche il modo che hanno le singole lingue di ridere e anche come la risata viene tradotta poi nel momento in cui si scrive, si evidenzia molto quella che è la differenza dello stesso gesto, però in diverse lingue e anche magari in diversi dialetti. Stavo pensando al fatto che magari nel napoletano si vede molto l'influenza spagnola, che la risata del napoletano è diversa anche dalla risata del toscano o del veneto. Quindi secondo me... È interessante questo, farò un lavoro sulle risate, mi dai uno spunto? Bello, è bello. Ma per esempio, tu sei napoletano? Sì. Prova a ridere, prova a ridere un po'. No, diciamo, magari questo aspetto anche slegato dalle parole, ma produrre un suono che la risata alla fine non ha un significato come le parole. Quindi forse in questo suono che emettiamo, o anche a questo punto mi verrebbe da pensare al pianto, al sospiro, all'ansia, magari in questi suoni è molto più evidente che nel linguaggio. No, ma guarda, hai toccato un punto interessante, nel senso che sono tutti temi sui quali a me piacerebbe molto lavorare. Cioè su tutti i suoni che emettiamo, ma che non hanno un significato in senso stretto, no? E appunto tutti questi che enumeravi tu. Sicuramente, sì, sono argomenti che mi interessano molto. Senti, a me interessa che però tu faccia vedere ancora un'altra due cose, perché sono, è importante per esempio, l'altro aspetto che può interessare ai ragazzi del suono è che tu anche, tu hai dato forma al suono, giustamente, quindi secondo me la lunga passeggiata che tu hai fatto nel bosco quando eri residente vicino a Marsiglia, lì secondo me c'è un altro aspetto che tu hai tirato fuori che è molto interessante, del suono, no? E lì avevi svariati i suoni e dovevi inventarti una forma. E questo è anche molto bello. E poi dopo c'era l'altro lavoro che volevo interessare, Mary, vedi tu quando? Quello delle, come si chiama, degli occhi dei disegni, dei disegnatori. Ma Chiara, tu resteresti sul, quindi sui lavori visivi, non sonori o video. Ma andrei avanti e indietro. Cioè, secondo me, sono per far capire la complessità del tuo lavoro, che però poi è sempre comunque, ha un'unica, cioè un'unica, ha sempre una direzione, capisci? Cioè, è comunque la frantumazione, la parcellizzazione, il cercare di tirare fuori dei linguaggi. Cioè, perché poi alla fine tu lavori molto su... Ma dimmi se sbaglio. No, 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 assolutamente. L'ho scritto, ma... Cioè, di trasformare in codici visivi, linguaggi, altri linguaggi... Chiara, non ti sento più. Non ti sento. Eh sì, Chiara, ti abbiamo persa. Ah, eh. Abbiamo perso la Chiara. Eh, ma si è scollegata, forse dovrebbe rientrare. Eh. Vabbè, dico, ragazzi, vi dico due cose su questo lavoro qua, intanto. Non lo so cosa riusciate a vedere. Vediamo un attimo. Allora, questo è il tentativo di ricomporre in modo visivo una banda sonora. Allora, no, questo non c'entra. Vediamo un attimo. Allora, qui è il lavoro allestito, sempre in questo museo francese, a Digna. Allora, io ho registrato... Adesso qua si vede... Ho registrato... Poi magari... Intanto perché abbiate un'idea generale. Ho registrato i suoni durante alcune escursioni nella natura di Digna. Scusate. Ci sei, Chiara? Mi hai scaricato il computer e sei spento improvvisamente. Non me ne ho accordo. Ecco, per cui, dopodiché ho cercato, ho suddiviso la banda sonora nei singoli suoni e ho cercato di rappresentarli visivamente. Quindi qui abbiamo, ad esempio, questo primo. Sono i miei passi sul selciato, che spesso la passeggiata cominciava in questo modo. Allora, qui, ad esempio, avete la lista di tutti i rumori, di tutti i suoni. Queste, ad esempio, sono... Questo è il merlo, no? Vediamo se riesco a mostrarvi. Questa è la cascata. Queste, di nuovo, sono i miei passi sul selciato. Questo è la cornacchia chiacchierona. Questo, invece, è il... Si chiama il pettirosso. Allora, ad esempio, il mio tentativo è molto, come dire, legato al concetto di sinestesia. Allora, ad esempio, qui ho cercato di riprodurre l'andamento melodico del cinguettio del pettirosso, che è accompagnato da degli schiocchi, no? Che, vedete, che sono questi punti, che sono più o meno ravvicinati, no? Alle volte un po' confusi. E la cosa importante da dire, però, qual è? Che io sono partita da un disegno, che è il, come dire, il pattern generico del cinguettio del pettirosso. Su questo, che ho stampato al laser, su questa possono reintervenuta e ho ridisegnato per rappresentare quel cinguettio in quel momento di quel pettirosso. Ecco, per essere fedele, appunto, all'effettivo suono che percepivo. Questo è il suono dell'abbagliare del cane. Allora, vedete, avete, wow, 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 wow. Cioè, ci sono dei punti, la cui risonanza comunque viene in un qualche modo resa manifesta. Vedete, da queste aureole, no? Una specie di... Sentiamo che questo è l'abbagliare più forte, no? Di queste, eccetera. Quindi ho cercato di lavorare proprio in modo sinestetico. Evidentemente l'oggettività è lontana da tutto ciò. Però una qualche, come dire, io credo che si possa capire perché questo, no? Può essere l'abbagliare del cane, mentre questo non lo può essere, ad esempio, anche solo questo. Questo invece è il merlo. Il merlo non ha cinguettini. Cioè, è tutto un suono molto più legato, senza schiocchi, ecco, percepibili. Però, secondo me, tu qui, la cosa interessante che viene fuori, secondo me, quando vedo tutta quella linea, no? Quel nastro di una specie, quel disegno, in fondo, che tu metti lì con la passeggiata, è che fai vedere che c'è in questa tua passeggiata una serie di variazioni di suoni e che tu, in qualche modo, riesci a visualizzare, a farci visualizzare in questo modo. Poi, è chiaro che quello lì è il merlo, che l'altro ha il pittirosso. Cioè, la differenza tra il suono del merlo e il pittirosso, è molto tua, come voglio dire. Anche se, ovvio, che quel cane, anch'io riesco a capire che il cane ha quel tipo di... Cioè, riesco a sentire quel suono, ecco. Non so come dire. Però mi interessa molto, e di nuovo, è la produzione di una complessità fatta di frammenti che c'è dentro un ambiente, ecco. Che è un pezzo di strada che tu fai da lì a lì, hai tutta una serie di cose, no? E quindi danno coscienza, anche, in fondo. Certo. E questa cosa che dicevi ieri dei vetrini, Chiara era bella anche, no? Sì, è vero. Unicare, no? Di una vita. Sì, e lei continuiamo a fare sedute. Tutte le volte che ci vediamo, che mi sottopone delle cose. No, che viene fuori l'elemento organico dentro questi disegni. Perché io gli chiedo, ma come hai fatto a inventarti le forme? Cioè, mi interessava capire un po' dove avessi tirato fuori questi... E a me, ogni volta, mi dava l'idea di andare dentro un qualcosa di molto profondo, cioè molto microscopico, e quindi dicevo, mi sembra di essere sotto un vetrino, insomma, che tu avessi messo il suono sotto un'analisi da vetrino, ecco. Perché, sì, non so, mi sembrava che fossi riuscita a mettere fuori bene, nella forma, l'organicità, cioè del suono. Ecco, tenete presente che qui un ornitologo mi ha appunto classificato tutti i suoni degli uccellini, che io non ero assolutamente in grado. Per cui c'è comunque questa... C'è sempre un pochino, secondo me, questa tensione verso un'oggettività che di fatto viene vanificata da immagini che non vanno verso l'oggettivazione, non è, diciamo, utile, un'utile oggettivazione, no? Però c'è sempre un tentativo di andare verso. Questi, per esempio, sono i miei passi sulla terra, no? Questi sono i miei passi sulla ghiaia, sulla pietra, quindi anche qui un po', come dire, di sinestesia, forse, che riusciamo a condividere, c'è. Certo. Questo di nuovo è il cane, ma è un cane diverso. A bagliare è diverso. Certo. Senti, Mary, per dare una mano, no, una mano, ma per far capire questo l'importanza di dare forma al suono e quindi di incontrare, di restituire delle strutture, poi, no? Le altezze, le lunghezze dei suoni. Io farei vedere, se è possibile, la costruzione incredibile che tu hai fatto con l'opera di Brahms, con una... Sì, sempre. Quella è pazzesca. Ecco, guardate che cosa hai tirato fuori, Mary. Ma qua tu potresti anche raccontare il confronto che hai avuto con un musicologo importante che è venuto a contatto con questa tua trascrizione visiva, no? Sì, sì, sì. Sì, appunto, io ho sentito Guido Barbieri che parlava appunto della Quarta Sinfonia di Brahms, per la quale ho una passione enorme, insomma, che condivido anche con lui. E quindi poi da lì devo dire che è nato un bellissimo rapporto, per cui poi lui mi ha anche invitato a tenere un programma su tutti i miei lavori. Sono a Radio 3. Non so se vi seguite, insomma, uno di quelli che parla, ha lezioni di musica, eccetera. Comunque, insomma... Beh, è barriere, barriere, pubblica, eccetera. Allora, qui io cosa ho cercato? Qui ho cercato di rappresentare il principio compositivo bramsiano. Allora, questo lavoro si chiama Il Progressivo, la Quarta Sinfonia di Brahms, perché così Schoenberg definiva Brahms, ha definito Brahms, il quale appunto procedeva per progressioni, quindi variazioni infinite, quindi non più per temi in opposizione, ma per variazioni. Quindi ho sentito che l'albero, probabilmente c'è questo fatto di questi rami, queste ramificazioni, la cui, se andiamo giù, possiamo vedere... Vai giù che si vede meglio. Allora, guardate un attimo, per esempio, questo è un ramo, chiaramente la forma dell'uno determina la forma del successivo, esattamente ciò che accade per le variazioni bramsiane. E si tratta di un graffito, per cui ci sono due strati di smalto, e graffiando lo strato nero emerge quello bianco che è sotto. Un lavoro molto lungo e laborioso, ho fatto tutto ascoltando sempre la Quarta Sinfonia di Brahms, che adesso non ascolto più da tanto tempo, perché non ripetevo più. Però vedete appunto, un lavoro proprio di incisione, anche faticoso. Di nuovo qui c'è un discorso proprio di impegno fisico, di concentrazione, di impegno fisico. Ecco, questo anche qui diciamo che c'è di nuovo il tentativo di rendere visibile qualcosa che non lo è, di passare da un linguaggio ad un altro, eccetera. C'è anche la modalità, il... No, ma qui non è. Vediamo se è qua. No. Posso chiedere un'informazione su questo lavoro? Sì, certo. E il ruolo del musicologo in questo lavoro, qual è stato? No, diciamo che in questo qui è stato semplicemente così, l'inizio del nostro rapporto, ecco, che poi dopo appunto ha avuto invece così delle conseguenze per me estremamente interessanti, perché poi ha sempre scritto, rispetto ai miei successivi lavori sonori, mi ha sempre scritto delle cose che per me sono sorprendenti. Adesso non so, Chiara, se sia il caso, ma forse no, di far sentire il nuovo vento su cui mi ha scritto. Ma mi piacerebbe tantissimo, è un lavoro meraviglioso, questo è l'ultimo a cui sta lavorando, però io l'ho sentito, ieri abbiamo fatto delle prove e io lì non l'ho, secondo me non c'era una buona, però non si può provare. E se no, preghiera a sua madre perché muoia, perché anche su quello Guido Barbieri ha scritto. Sì. Forse si sente meglio, Chiara, preghiera a sua madre perché muoia? Sì. Vado su quello? Ma sì, proviamo. Proviamo. Comunque Michele, tu stai scrivendo, no, i link? Sì, sì, tutti. Però non dimenticarti poi anche Mary quello che è importante, anche quello sullo sguardo, quello lì secondo me perché aggiunge un'altra cosa. Sì, va bene, sì, dopo magari... Scusate, scusate, se è possibile, non so se mi sentite, sono Stefania Perna. Ciao, vi saluto. Salve, Allora, io volevo un attimo attenzionare l'impatto visivo di questi grafici che abbiamo visto di questi disegni che mi facevano molto riflettere su quella che è invece i sistemi diciamo di riproposizione della scrittura automatica del surrealismo. Mi facevano anche molto pensare all'informale di un vols per esempio e oserei azzardare una definizione di queste trasposizioni grafiche del suono come dei frottage sonori perché l'idea del frottage è come ricalco metodologico che mi sembra molto affine a quello che è anche la tua metodologia operativa cioè l'idea di appunto trasporre quasi scientificamente ma sempre in maniera soggettiva e quindi filtrata dall'occhio dell'artista sempre molto soggettivo e in maniera analitica ciò che si vede e ciò che si vuole registrare quindi una sorta di registrazione grafica come una sedimentazione proprio del segno che si sovrappone al suono quindi con quest'idea del frottage che è appunto l'idea della riproposizione automatica e meccanica che mi sembra simile anche alla tua metodologia insomma dei lavori precedenti penso anche al lavoro sul mare dove proprio la sonorità incalzante delle onde si vede anche proprio nella resa oggettiva del segno sì è molto interessante questo che dici guarda non è un caso che abbia fatto molti lavori usando la tecnica del frottage e c'è una mia serie che si intitola proprio così frottage qui credo che non vediate niente no poco Mary allora vediamo se vedete qua qualcosa vediamo vedete poco sì ma poco sono lavori però sono no ma ti vedo ti vedo è la distribuzione delle sabbie questo lavoro si chiama questo ciclo e appunto sono delle sabbie ricavate da una cava con la quale ho collaborato che versate all'interno di una scatola sempre la stessa a seconda della distribuzione della loro distribuzione all'interno di questa scatola io poi applicavo sopra un foglio e con la tecnica del frottage mettevo in rilievo la distribuzione stessa quindi questa cosa che hai detto assolutamente insomma calza la sento bellissima tra l'altro questa cosa che dici che i suoni come cioè il mio modo di rappresentare i suoni come un frottage dei suoni stessi la adotterò quando ne parlerò mi pare molto molto bella grazie allora scusa che qua cosa succede ecco questo lavoro era stato esposto ecco in questa modalità che voi vedete anche qui insomma in modo di nuovo seriale tassonomico così pseudo scientifico e sono tutti quanti frottage questi tutti ecco questa è la scatola vedete all'interno della quale veniva sistemata la sabbia sabbia con di granulometria diversa e quindi evidentemente il modo in cui si distribuiva dipendeva dal peso dalla grandezza dei singoli sassetti e quindi ogni volta questa veniva registrata tramite il frottage però questo non è che non registri una verità è quello che mi interessa anche rilevare forse anche se il metodo è grezzo anche se il metodo è artigionale lo strumento è molto rudimentale non è certamente con la percezione del con la perfezione della dello strumento scientifico però quello che voglio dire si avvicina molto a una una un'esperienza vera cioè le pietre quando vengono mosse si muovono in quel modo lì quella cosa lì è vera come restituire questa variazione cioè questi infiniti movimenti che ci sono nascosti celato dietro qualsiasi cosa nella realtà queste sono un po' le domande no Mary che allora rispetto è molto interessante quello che veniva fuori dalla domanda dall'osservazione precedente di Stefania che però per esempio mi sembra che l'automatismo che si trova dentro il mondo surreale oppure il riferimento che hai fatto rispetto all'informale cioè c'è invece lì una casualità e una dimensione gestuale casuale performativa che è molto più che è molto lontana da invece quello di Mary che in qualche modo cerca bene o male approssimativamente di controllare però perché questa è la salvezza cioè se no lei come non riuscirebbe a darci dei dati che ci stupiscono in questa maniera così perché quella cosa che noi abbiamo visto sulla della piazza San Marco appeso come un grande disegno che sembra sì magari Wals oppure Cy Tombly o cose del genere però di fatto è scientifico cioè c'è l'università di Bologna che ha rilevato tutti gli andamenti i movimenti delle persone in piazza San Marco c'è uno spazio che comunque è limitato in modo che lei abbia potuto fare una serie di cose cioè un grafico che in qualche modo anche se molto passibile di errore perché è la sua mano comunque che fa quello però si basa su dei dati che sono reali certo non so mi sembrava una roba no no è assolutamente importante infatti va detto che alle volte i miei lavori per esempio i lavori che vi ho mostrato prima sulla visualizzazione dei suoni possono essere scambiati per lavori astratti nulla è più lontano da me dall'astrattismo esatto ecco quindi no questo è molto importante e rispetto Chiara anche quello che dicevi della realtà perché poi tu hai iniziato Scusatemi un secondo che devo aprire la porta scusatemi No approfitto Stefania questa cosa del frottage adesso non so se qua riuscite a vedere qualcosa riuscite a vedere Certo vediamo tutto ecco allora per esempio questi sono singoli frottage di singole pietre e siccome ho collaborato con dei geologi i quali incredibilmente vedendo i frottage loro riuscivano a risalire all'origine al tipo di tipo di sasso il tipo di pietra all'origine quindi se era di origine vulcanica eccetera e anche alla a quanto adesso mi ricordo più il termine cioè quanto questa pietra aveva saltellato nei fiumi no per quanto tempo fino ad assumere la forma che aveva assunto e se voi vedete qua ci sono delle piccole scritte sotto ogni frottage che dicono esattamente questo in modo assolutamente scientifico ecco quindi questa cosa che è venuta fuori del frottage diciamo a me fa molto molto piacere ecco diciamo che rispetto al discorso del disegno automatico oppure anche dell'informale effettivamente in me c'è un intento che va nella direzione opposta se vuoi perché io cerco di non far parlare l'inconscio ad esempio ecco è chiaro che è un tentativo cioè la mia soggettività io cerco di metterla tacere è un tentativo che lascia il tempo che trova ma questo tentativo questo sforzo c'è chiara sei arrivata si scusate mi scusate è una mattina piena di cose mi parte il computer allora tu dicevi di mostrare cosa adesso non mi ricordo più io voglio voglio mostrare che quello delle sguardi quello dei tuoi allievi secondo me è di nuovo un'altra cosa importante quello che viene fuori di nuovo rispetto anche a questo discorso comunque di trovare un dispositivo un sistema che rilevi qualche dato da reale comportamentale perché poi anche questo è importante chiara scusami allora a questo punto prima di mostrare quello mostro un attimo i disegnatori però il video da cui ho tratto poi perché altrimenti non si capisce certo certo sì sì visto che è senza visto che questo senza audio possiamo vedercelo certo certo si racconta perché lei usa come cavie i suoi studenti come vedete vedete bene sì sì si vedete bene sì sì benissimo si capisce ecco allora vi parlo un attimo mentre il video scorre allora i miei allievi insegno disegno e pittura principianti assoluti applicando il metodo Betty Edwards disegnare con la parte destra del cervello che è interessantissimo perché ha delle delle basi neuroscientifiche quindi insomma che hanno molto a che fare con la mia pratica artistica poi e quindi una cosa che mi succede è quella di farmi disegnare e e sono sempre sorpresissima dal fatto che qualche secondo prima mentre parlo a miei allievi io mi sento percepita come dire nel mio ruolo come persona come insegnante insomma nel momento in cui divento oggetto del loro disegno il loro sguardo cambia improvvisamente io divento uno spazio fisico nello spazio fisico e lo sguardo è misuratore è al di là come dire del giudizio morale ed estetico ed è uno sguardo che per le sue caratteristiche è estremamente diverso da qualsiasi altro nostro sguardo e e su questo poi ho lavorato quindi ho lavorato non solo con con questi video che se voi guardate sono realizzati in modo tale dovete immaginarvi proiezione a parete grande le persone a grandezza naturale e quindi chi guarda ha la sensazione di essere chi guarda il video ha la sensazione di essere guardato e disegnato quindi dare allo spettatore lo stesso tipo di sensazione che io provo nel momento in cui vengo disegnata e fatemi un attimo no cosa ne devo fare per uscire fai perché forse devo andare andare qua sì allora da questo lavoro ne è nato un altro che è un minuto e 15 secondi di sguardo dei disegnatori sì fantastico ecco allora ma rispetto a me interessa qua che venga fuori anche il tuo la necessità di dare delle forme e quindi di costruire poi dei linguaggi in fondo certo a questa cosa che non si assolutamente percepisce molto poco per esempio allora qui vedete il lavoro installato passiamo però subito e quindi vedete una grande varietà altro cosa fondamentale quindi avere un certo numero che attraverso il quale noi grazie alla varietà comprendiamo una serie di cose allora guardiamo un attimo questo allora ho attuato lo stesso tipo di procedimento che avevo attuato per il ciclo di tutti quelli che vanno cioè i grandi disegni che avete visto con le persone che si muovono allora in questo caso io ho ingrandito al computer la faccia di ogni singolo disegnatore e ho applicato di nuovo un foglio di plastica trasparente sul monitor e con un penarello ho seguito per un minuto e 15 secondi prima i movimenti di un occhio poi sono tornati indietro i movimenti dell'altro occhio e questo l'ho fatto per ogni allievo per più volte in momenti anche molto diversi che ne so quando stavano disegnando in ottobre poi anche in gennaio febbraio eccetera e quando disegnavano cose diverse me oppure dei fiori oppure un paesaggio eccetera e cosa è emerso cosa che ha stupito anche a me che di fatto noi possediamo un nostro pattern cioè un nostro ritmo interi invece di avere impronta digitale abbiamo come dire un'impronta visiva che ci caratterizza come le impronte digitali delle mani cioè il nostro ritmo è sempre riconducibile ad un singolo pattern allora vedete qua questa persona è la stessa che poi ha fatto questo qui magari disegnava appunto una banana qui disegnava me e questa è un'altra persona vedete quanto cambia il pattern siamo sempre all'interno di una varietà riconducibile ad un singolo pattern qui abbiamo di nuovo la stessa persona qui di nuovo la stessa persona questa cosa è emersa mentre la stavo facendo è una cosa che mi ha molto incuriosito qui vediamo abbiamo la stessa persona vedete la stessa persona e qui la stessa persona fantastico questo sì è come un'impronta digitale cioè quindi un'impronta oculare non so come dire no? scusate io volevo fare una domanda tornando alle immagini precedenti una delle prime di questo lavoro come la trasposizione grafica sotto ci sono delle se puoi tornare un attimo indietro di quale? di questo qua Merissa perché vai vai questa volevo sapere ma sotto non sono gli occhi o sì? sì sì allora sono sempre solo gli occhi tenere presente che io registro con il pennarello i movimenti degli occhi gli occhi essendo attaccati alla testa evidentemente possono fare dei giri più o meno ampi cioè se è i movimenti della testa poi alla fine sono anche e beh certo è incluso è incluso ok ok ecco è anche questo punto interessante allora ho scoperto una cosa che dico a voi che però non è schifta non è carina nei riguardi dei miei allievi che io adoro ah sì questa me l'avevi detto è incredibile che è interessante molto interessante secondo me allora io conosco molto bene i miei allievi premessa con il metodo da me adottato che per fortuna si sta diffondendo insomma parecchio tutti possono imparare a disegnare così come si impara a leggere a scrivere chiaramente come in tutte le nostre umane attività c'è chi più è portato chi lo è meno e quindi effettivamente c'è chi fa chi deve sforzarsi di più e chi si sforza di meno a seguito appunto dell'attitudine allora io conosco molto bene i miei allievi e so chi è più o meno portato allora volevo chiedervi facciamo questo test secondo voi tra questa persona e questa persona chi è più portato per il disegno non c'entra niente con l'intelligenza secondo me quella di sinistra quella di sinistra quella di sinistra quella di sinistra o quella sotto quella sotto quella sinistra tutte e due cioè è sempre la stessa persona questa è la stessa persona ah ok si vede beh quella sotto secondo me ah beh tu ma c'è una riflessione anche sul comportamento allora diciamo che diciamo che è una conseguenza viene fuori la mia curiosità insomma non è non è un'indagine particolare adesso così è un po' una cosa una brosiana esattamente la cosa interessante no che chi è molto portato per il disegno poi c'è tanti altri esempi relativi a questo di fatto muove pochissimo gli occhi come dire diventa una specie di scanner no e quindi c'è questa questa concentrazione estrema no questa persona invece compie tutta una serie di movimenti oculari assolutamente inutili questo non l'avevi raccontato mi aveva stupito anche a me ma è verissimo come descrivere sì la perdita di tempo anche però la vendetta dei non portati è il fatto che il loro il grafico che ne esce è molto più bello vabbè certo perché c'è più disegno scusa infatti io sono stata ingannata da questo devo dire sono stata ingannata dalla vendetta di quelli sotto sì sì per cui ti pensavi che e però invece la concentrazione ha anche una una restituzione visiva che interessante come il punto no è pazzesco sì 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 ma mi ricordo Mary quando veni facevi vedere che ti raccontai questa è la più brava e quindi secondo me era di nuovo interessante questo è un lavoro più antico di Mary cioè nel senso scusate guardate questo è incredibile eh questo è confusissimo è distrattissimo questo va bene che forte adesso non so se dare spazio a domande concludere Chiara sì no perché sei sfinita ci hai fatto vedere veramente in maniera approfondita siamo entrati nei meccanismi del tuo cervello e del tuo sensibilità e di questo veramente ti ringrazio tantissimo Mary io non credo che si debba aggiungere tanto nel senso che si compone comunque una 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 progettualità e una analisi molto molto precisa costante non non casuale non appunto come gli occhi di questo tuo allievo magari che va a sua giù cioè c'è una una un tuo scandagliare andare verso delle 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 traiettorie molto molto precise insomma che però che magari ogni tanto sembrano divagare su argomenti diversi ma però poi alla fine restituiscono comunque sempre un unico interesse e sguardo che è quello proprio di andare a cercare questa parcellizzazione mi viene da dire questa questa sì questi piccoli pezzi o comunque di di frantumazioni che si celano dietro i comportamenti dietro i suoni dietro le strutture poi di restituire poi in fondo delle strutture legate poi anche allo spazio e tempo e quindi sempre con una visione più ampia che poi ci porta vicino all'infinito c'è questo stare anche in una maniera poetica vicino a dimensioni che non sono né rappresentabili né dicibili come appunto discorsi che poi mi piace questo tuo modo di affrontarli come una scienziata dell'ottocento insomma adesso io se avete delle domande sarei felice ne avete fatte comunque di interventi molto belli molto utili quindi sì Stefania Annalisa e non mi ricordo più quel ragazzo come si chiama prima che ha fatto due interventi bellissimi sul napoletano che non viene fuori il nome va bene ecco adesso ditemi voi se avete ancora delle domande io volevo chiedere tu ti riconosceresti sì sono Stefania sempre ti riconosceresti Maria Teresa in una definizione del tuo lavoro come nella tua produzione come delle partiture partiture poetiche io rivedo molto della partitura cioè questa frammentazione che si orchestra secondo insieme poi vengono esposti anche tutti insieme quindi danno questa punteggiatura questa questa presentazione puntiforme degli elementi crea un ritmo nel suo insieme quindi anche una partitura che come giustamente diceva Chiara mi sembra altamente poetica sì 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 allora sì infatti non è un caso che la parola partitura sì si la abbiamo usata sì spesso viene usata diciamo che l'elemento poetico allora diciamo che io non sono alla ricerca della poesia ma nel momento in cui questa si presenta io sono felice e ritengo un lavoro completo e lo ritengo completo diciamo che il mio intento è quello più dell'analisi sempre con questi mezzi che abbiamo visto piuttosto rudimentali senza non c'è nessuna ricerca della poesia però se poi da un mio lavoro appunto che parte dall'analisi questa no non c'è questo incontro per me il lavoro è incompleto non so se mi sono spiegata sì e no cioè secondo me non hai io mi ricordo che comunque Mary tu non la cerchi la poesia e questo qui va bene perché parti da un'analisi ok però poi quello che l'analisi tua ti fa vedere è quella è poi è poesia perché è passata verso la poesia no no certo ma sto parlando del mio atteggiamento iniziale come ti dicevo poi sì o poi al lavoro finito no non riesco a trovare l'elemento poetico no per me il lavoro non è non è non è completo non è realizzato non è arrivato a dove volevo arrivare capito però io non la ricerco sì no porterebbe fuori strada capito no ma infatti me la sono d'accordissimo perché secondo me Stefania quello che forse a Mary non ti ha risposto in questo modo ma io mi permetto di entrare così come una direttrice di orchestra è veramente ridere però no volevo dire che io ho sentito che la definizione partitura poetica per Mary credo sia lei non ama una definizione che inglobi tutto cioè non può essere perché proprio lavorando sulla variazione quella definizione lì le partiture poetiche limita tantissime possibilità che hanno le variazioni di manifestarsi cioè non lo so è limitante è limita capisci cioè o comunque costringe quello è quello che sento io un po' conoscendo viaggiando un po' con Mary ma non so poi rispondi tu Mary io sentivo che quella mettere un unico titolo quindi quel plurale no variazioni poetiche rischiava di perdere tutta la parte la scientificità tra virgolette l'analisi che invece c'è dentro ed è una parte molto importante dentro il suo lavoro sì diciamo più che altro questo Stefania direi che non emerge la parte come dire il mio atteggiamento ecco in questa definizione più che non è che io sia contraria alle definizioni onnicomprensive magari la si può trovare però magari con una parola che sbilanci anche nel senso del mio approccio del mio intento iniziale che non è quello appunto di essere poetica sì esatto se ho risposto sì sì certamente io credo che poi alla fine sia il linguaggio è un linguaggio è un linguaggio cioè una trasmissione di dati acquisiti che però hanno sicuramente una un eco nella nella nel cenno nel cenno poetico e trovo anche una estrema ehm somiglianza affinità tra il lavoro visivo e il lavoro invece audio quello dell'installazione audio che abbiamo ascoltato sui testi poetici no? cioè proprio per questo forse perché avendo ascoltato avendo visto il lavoro precedente trovo una similitudine ma certamente non non è appunto come dice di toni comprensiva è una sfumatura ecco è un cenno è un cenno delicatissimo e questo lo rende ancora più sottile no? delicato delicatissimo ecco in questo senso grazie grazie a te volevo chiudere con questa frase di Jean-Luc Nancy che mi piace tantissimo e che io l'ho citata a proposito di un testo cioè quando ho scritto di Mary Sartori che d'altra parte sappiamo che se in qualche modo abbiamo accesso a una soglia di senso ciò avviene poeticamente mi sembrava una chiusura che alla fine si trova questa cioè la poesia poi ci porta dentro delle dimensioni infinite e poi il come ci arriviamo il come ci approssimiamo Mary ce l'ha fatto capire e ha un suo diciamo costruzione di dispositivo ogni volta è diverso io chiuderei ringrazierei tantissimissimissimo Mary veramente che hai fatto una ci hai dato un tempo di nuovo a me ogni volta molto ricco molto intenso e mi spiace tantissimo di questa impossibilità di vederci fisica Mary io lo soffro tantissimo Annalisa e Nicola se lo sanno perché è come se facessi appugni dentro una scatola perché non si può sentire non ci si vede appunto Mary tutto il lavoro che tu fai sugli sguardi poi dopo con tutte queste attenzioni qui siamo veramente dentro l'impossibilità di comunicare dovresti fare un lavoro su questo la differenza tra comunicare in virtuale e invece in persona e quindi niente Mary veramente grazie e grazie a tutti quelli che si sono collegati che non vedo non so chi chi ci sia grazie a Michele non è una conferenza sono le nostre classi di scuola noi domani mattina ci ritroviamo vero Annalisa e Nicola e magari facciamo un po' una sintesi o continuiamo a mettere ordine vediamo tutte queste parole che ci sono arrivate oggi grazie mille volevo ringraziare sia Maria Teresa sia Chiara per questa chiacchierata che è stata molto densa e secondo me abbiamo bisogno di tempo di infatti infatti quindi grazie va bene volevo ringraziare io voi della vostra attenzione e tutto questo tempo che avete dedicato tu no 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 mi fa piacere anche perché tra l'altro tutte le osservazioni che sono uscite sono molto interessanti sì sì per me è anche sempre molto utile certo quindi davvero grazie alla città dell'arte a tutti a tutti a tutti agli studenti a Chiara faremo un lavoro tutti insieme sarebbe bello ok grazie a loro grazie arrivederci buona buona weekend grazie grazie a domani ciao un saluto a tutti ciao 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 Michele ciao 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 ciao